Lord Megatron, sembra che il progetto Predacon sia finito nelle mani degli Autobot, che facciamo adesso? Com'è possibile? Starscream, scatena subito la tua armata! Hai ordini signore? No! Se i miei compagni sono in pericolo affrotterò io stesso il nemico! Signore, chiedo il permesso di far esplodere una granata in area contenuta! D'accordo, ma se tu e io siamo tutto ciò che resta tra mostri e terrestri, useremo ogni mezzo. Rispedisci queste bestie all'età della pietra! Vieni! E questo chi è? Ti rispondo subito! Io sono colui che vi ha permesso di vivere fino a questo momento! È il Predacon! Che cosa avete fatto i miei compagni? Che cosa avete fatto? E va bene! Adesso si balla! Che cosa avete fatto i miei compagni? Che cosa avete fatto! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Peccato. Proprio adesso che stavi cominciando a piacermi. È stato un onore combattere al tuo fianco, soldato. Preparatevi a morire. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.